Applausi per i Peter Pan della Botta e il Cilindro. A metterlo in scena la giovane regista Margherita Lavosi all'interno della trentesima stagione di teatro per ragazzi, programmata, come di consueto, al Ferroviario. Una nuova produzione per un testo che dal 1902 ammalia grandi e piccini con un suo mix di avventure, poesia, spazi onirici e valori familiari. Il cast di 12 attori, suddivisi tra veterani e nuove leve, interpretano i ruoli classici della favola di James Berry, Con solo Pitali si veste i panni del protagonista con aderenza androgina, mentre la stessa Lavosi a tener testa l'eterno ragazzo nel ruolo della virginale Wendy. Per migrare dall'habitat borghese all'isola che non c'è, bastano gli accurati movimenti scenici orchestrati da Michele Grandi e le scenografie curate dagli allievi dell'Accademia di Belle Arti Mario Sironi, diretti dai docenti Monia Mancusa, Oscar Solinias e Marco Cortopassi. A Stefano Chessa tocca il difficile compito di rappresentare Capitano Uncino, uno dei cattivi per antonomasia e delle narrazioni per ragazzi, prima che la Disney ne ridicolizzasse le gesta nel fin del 1953. L'adattamento teatrale è opera di Nadia Imperio, che si rifà l'originaria versione per la scena di Berry, tratteggiata con colori pastello dal Finding Neverland con Johnny Depp nei panni del drammaturgo scozzese. L'isola Conte è l'artefice dei costumi, oltre che una grottesca pirata di nome Lanterna, mentre Paolo De Palitta è light designer. Si replica fino a domenica con l'aggiunta al prossimo anno degli spettacoli del 5 e 6 gennaio.